A distanza di oltre due mesi da ritrovamento del corpo di Samanabas e quasi due anni dopo il suo omicidio a Novellara è cominciato oggi in corte di assise a Reggio Emilia il processo in cui cinque familiari della ragazza che rifiutò un matrimonio combinato sono accusati di concorso in omicidio. Si tratta dello zio della diciottenne, due cugini, il padre e la madre. Lo zio e i cugini sono detenuti in Italia, furono arrestati in Spagna e Francia ed estradati dopo poche settimane. I genitori invece si trovano in Pakistan, lei è ancora latitante, lui è in carcere a Islamabad. La posizione dell'uomo però è stata separata dalle altre ed è stato disposto un rinvio dell'udienza al 17 febbraio per valutare la possibilità di un collegamento in videoconferenza. Alcune associazioni contro la violenza sulle donne hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo, anche il fidanzato della vittima si è costituito parte civile per onorare Saman e perché serva da monito per questi efferati crimini nei confronti delle vittime di matrimoni forzati e di violenza in generale.